40 squadre di cui 8 professionisti che 96 partite totali sono i numeri della prima edizione della Lanieri Cup, il torneo di calcio riservato ai Pulcini Under 11 organizzato dall'AC Prato. La manifestazione si svolgerà nell'arco dei sabati di maggio fino al 27. Tutte le partite si giocheranno allo lungo Bisenzio. Oltre al Prato saranno presenti altre formazioni pratesi e provenienti da tutta la Toscana ma anche le rappresentative di tre squadre di Serie A come Bologna, Spezzi ed Empoli. Trattandosi di ragazzi Under 11 non è previsto il direttore di gara, le partite si giocheranno col sistema dell'auto arbitraggio. La macchina organizzativa è andata avanti da quasi sei mesi per organizzare, per portare qui al lungo Bisenzio 32 squadre dilettanti fra le migliori del territorio e 8 squadre professioniste che sfileranno l'ultima giornata prevista per il 27 maggio. La cosa eccezionale sarà il teatro, vorrei che sia il teatro dei sogni dei bambini che calcheranno questo meraviglioso stadio, meraviglioso terreno di gioco per chissà un domani essere un campione. Vorremmo che questo torneo a carattere nazionale fra i più belli del territorio abbia anche una continuità e che sia sempre più prestigioso. Per la società Bianca Azzurra aver organizzato la prima edizione di un torneo giovanile è un punto di orgoglio dato che proprio in questa stagione il Prato ha cominciato a ricostruire il settore giovanile dopo cinque anni di assenza. È meno di un anno che abbiamo rifondato la scuola calcio, era cinque anni che il settore scuola calcio e il settore giovanile erano chiusi per quanto riguarda il Prato calcio. Meno di un anno un torneo, il summer camp, gli allievi e i giovanissimi che vengono di nuovo a far parte insomma del settore giovanile. Penso che ci sia dimostrazione dell'impegno che la società, i dirigenti, lo staff, tutti ci mettono nel portare avanti quello che è un nostro obiettivo, quello comunque di ridare lustro al calcio dei giovani di Prato.